musica madonna signore dei telefoni ascoltami io c'ho un problema io sono il PR qual'è il problema? abbiamo fatto la riunione di PR e mi hanno detto che le locale di manifesto non ci vanno più la gente non li vede più non li vede le serate bisogna mandare gli avvi su whatsapp il problema è che io c'ho questo cellulare e questo whatsapp non ci sta e ti dai nuovo ai telefono plus per i PR nooo è una beee che cosa? beee nooo Same con questo posso fare il PR totale bravo vai piere corri corri anche con lei telefono plus Whatsapp cheese vino e fa liiii nooo pure su whatsapp ma sto piede di me rossi coglioni musica ooooooo tu hai visualizzato e non hai risposto no è vero è vero hai visualizzato e non hai risposto no è vero tu hai altro da fare e che cosa? tu hai l'amante io le corna no secondo me si no ma perchè non mi risponde se si vuole leggere un messaggio senza far sapere al destinatario che lo abbiamo letto basta attivare la modalità aereo entrare nella conversazione ce lo leggiamo usciamo e l'abbiamo fregata troppo bene che ci vuole fammola ma io non capisco questi giovani d'oggi tutti col telefonino la generazione di oggi si basa tutto su whatsapp mo che hanno aggiunto pure il fatto di queste due spunte blu in più proprio la una generazione bruciata tutti che se ne vanno in giro così come i mongolodi non ragionano più non capiscono più niente tutti così che fanno così e camminano così e non capiscono più che su di niente e questa è la generazione di mo tutti gli incoglioniti di wass ma tu NOOOOOOO oh marco marco ma tu c'è la festa a spaccare tutto la bum proprio stanno le femmine picciole a morire tutti i flubri altri tre in clan feste i veniti ma fra che devi venire qua ok fra dammi la posizione che ti raggiungo siamo diventando la posizione su whatsapp aspetta oh marco basta inviarmi foto di vagina che ho la memoria del telefono piena da che si salvano pure in automatico quindi lascia stare ok cosa ti è arrivato? fai vedere cosa ha? morto la vita è piena di sé piena di male la vita è piena di paure ora anche per i social ha visualizzato? avrà letto? perché appaiono le due spunte e non mi risponde? e ditemi cosa c'è di più brutto del non visualizzare insieme da cercare di migliorare quella chat cazzo perché il wifi non funziona mai e le emoticon finiscono sempre senza fretta l'unica cosa che penso sia sbagliata è che noi fidiamo alla nostra felicità delle spunte blu e tutto questo è un casino io sono un casino io sono l'esempio lampante della mia generazione oh ma cosa che stai a dire? tu non sei l'esempio lampante tu sei l'esempio del rincoglionito perché è un rincoglionito che costi leggi i fogli qua? la la attacca attacca vai attacca uuuuuh uuuuuh eh zucberg zucberg compra whatsapp 19 miliardi nooo che coglio io 89 centesimi l'ho pagato FAMAAAAAAA Questo videomessaggio va direttamente da Frenchmole, voglio stare parlando in Whatsapp, ok perfetto, hanno inserito questa opzione delle due linee blu, del visualizzato, volessi capire perché sono 15 giorni che provo a contattarvi e non mi rispondite e non dite che non avete letto, perché sono cresciuto di linee blu, sono un sacco di linee blu, avete letto tutti i miei messaggi e non rispondite e mi sto ingrippando e mi sto andando a Sarenna, nemmeno è più facile ricevere una risposta di lavoro che una risposta a un'opper Whatsapp, ma come sono i tempi eh, è una bella sfida, se potete rispondete.